La palla in profondità per Aguirre, controllo abbastanza impreciso, va fino in fondo Aguirre, lo scarico per Iturra e poi c'è la deviazione vincente di Ittero, Udinese 2, Chievo 2, Udinese 1, la firma dell'ex Ittero, la firma dell'ex Ittero che va a impattare in maniera fortunosa questo tiro di Iturra. Dopo solo 30 secondi dall'inizio del secondo tempo l'Udinese trova il gol del 2-1, Chievo 1, Udinese 2, la firma di Iturra, la firma di Ittero, rivediamo il gol di Ittero di Tacco, non è in fuorigioco Ittero, il tiro di Iturra va a carambolare contro il corpo di Ittero e quindi c'è la firma di Ittero per il vantaggio momentaneo dell'Udinese, Chievo 1, Udinese 2.